Non deve convincere me, deve convincere gli italiani. Il problema che io tocco con mano ogni giorno è che questi soldi di cui si parla, che arriveranno, se arriveranno a 2021 inoltrato, quindi fra un anno, rischiano di arrivare tardi. Il problema di quel negozio là è oggi, il problema di quel bar là è oggi, il problema dei mutui è oggi, il problema degli affitti è oggi. Rischiamo un milione di posti di lavoro in meno entro fine anno, quindi va bene parlare del 2021, io anche in aula ho chiesto di occuparsi del 2020. Ci sarà lo scostamento di bilancio a breve, proprio parlando di 2020, vi vedrà in qualche modo a sostenere la posizione del governo? Ci devono dire come vogliono usare quei soldi perché io a pacchetto, a scatola chiusa non approvo più niente, l'abbiamo già visto con gli altri decreti che poi si sono rivelati delle bufale sulla cassa integrazione, sui prestiti in banca, sulla burocrazia. Quindi prima voglio capire quanti soldi, per chi e in quanto tempo e poi eventualmente ne parliamo.